Foggia tra le ultime città per il servizio mensa nelle scuole. Un dato preoccupante non solo per la città di Foggia ma per tantissime altre città italiane che negli ultimi due anni hanno registrato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l'assenza di mensa scolastica e l'esclusione di famiglie morose. A rendere noto le percentuali sulla base di 45 comuni al di sopra dei 100.000 abitanti è Save the Children con il progetto Non Tutti a Mensa. A Foggia solo il 15% delle scuole offre il servizio di ristoro. Seguono Perugia, Siracusa, Palermo e Reggio Calabria. Nessuna scuola del Foggiano ha una cucina interna affidando il servizio a ditte esterne per la preparazione dei pasti caldi. Solo il 7% dei bambini foggiani usufruisce del servizio mensa, il restante degli studenti o fa rientro a casa o è costretto a consumare un pasto portato da casa. La media nazionale con accesso alla mensa scolastica raggiunge quasi il 50% degli studenti complessivi. Vale a dire che uno studente su due usufruisce di questo vantaggio, dati che tendono a bilanciarsi in quanto soprattutto al nord si registra la piena disponibilità delle scuole ad offrire il servizio mensa, accertando anche la presenza costante di tutti gli studenti durante l'orario di pranzo. A differenza del sud che vede, come nel caso di Foggia, un bambino su dieci. Tra nord e sud diverse sono le regole che gestiscono l'utilizzo del servizio e la consumazione dei pasti. Tra le città prese in analisi, 9, tra cui Foggia, blocca l'accesso alle famiglie morose. Un report preoccupante in quanto il momento della mensa rientra tra i sistemi di integrazione ed educazione. A questo si aggiunge la cifra sempre più alta della povertà infantile e la difficoltà per alcune famiglie di garantire un pasto proteico al giorno al proprio figlio. Save the Children, a conclusione del progetto, chiede maggiori interventi sugli istituti scolastici per diminuire il disagio sociale, che è sempre più allarmante.